Buonasera, ben ritrovati, seconda parte di Angoli, siamo in compagnia del professor Giuseppe Perone, buonasera. Buonasera a te e ai nostri spettatori. Ricordo, primario di oculistica presso la villa Aprica, beh grazie mille per essere tornato, ci siamo lasciati un paio di settimane fa parlando del Packer. Packer e oggi parleremo di un argomento altrettanto importante che è le congiuntivite, che è un capitolo molto importante delle patologie dell'occhio. Adesso poi è anche il periodo giusto perché marzo-aprile inizieremo ad avere le prime ondate di congiuntivite allergiche, congiuntivite primaverile, quindi le mamme, le nonne si preoccuperanno per i loro bambini. Comunque il capitolo congiuntivite è molto molto ampio. Benissimo, anche un tema come ha un po' annunciato lei, stagionale, ma non solo, vedremo perché. Per dare proprio tutti gli strumenti ai telespettatori, per capire meglio di che cosa stiamo parlando, diamo una definizione delle congiuntivite e anche i sintomi da riconoscere per... Benissimo, cerchiamo di fare un po' il punto. Allora se la regia ci aiuta con delle immagini, il capitolo delle congiuntivite è uno dei capitoli più importanti e più ampio delle patologie dell'occhio. Congiuntivite vuol dire infiammazione di una mucosa, che è la mucosa congiuntiva, congiuntivale, che ricopre la parte anteriore dell'occhio, fatta eccezione della cornea. Per dire è quella struttura trasparente, lattescente, che ricopre l'occhio. Le congiuntivite possono essere classificate in vari tipi, possiamo avere le congiuntivite batteriche, le congiuntivite infettive, le congiuntivite che a loro volta possono essere virali, possono essere da adenovirus e così dicendo. Abbiamo poi le congiuntivite da agenti esterni, abbiamo le congiuntivite attiniche, abbiamo varissime forme di congiuntivite. Sintomo comune di tutte queste patologie congiuntivali, delle congiuntivite, è il rossore dell'occhio. L'occhio rosso, in alcuni casi prurito e in alcuni casi abbiamo addirittura epifra fuoriuscita di lacrimazione e secrezione mucosa che appiccica le ciglia. Quindi i sintomi grosso modo si assomigliano un po' per tutte le forme di congiuntivite. Abbiamo delle forme congiuntivite particolari che si caratterizzano per una sintomatologia particolare. Iniziamo con le congiuntivite batteriche. Questa qui che vedete qui è la congiuntivite gonococcica che è una congiuntivite che il neonato contrae durante il passaggio attraverso il canale del parto. È una congiuntivite che può portare a delle grosse problematiche e fa parte delle congiuntivite batteriche. Le forme batteriche più comuni sono lo pneumococco, lo stafilococco, streptococco, però sono nomi che i nostri spettatori non interessano. Cosa fare in questo caso di fronte a queste congiuntivite? Sicuramente terapia con antibiotici, è importante fare una terapia adeguata. Soprattutto è importante evitare di contaminare il contagio anche di altri pazienti. Quindi negli asili, nelle scuole bisogna stare attenti. Ed è una patologia che regredisce con restituzione ad integromo del nostro occhio tranquillamente. Quindi il rossore quant'altro scompare nel giro di 4-5 giorni, lì dove abbiamo adottato una terapia idonea. Alcuni ceppi batterici sono un po' più aggressivi e quindi bisogna intervenire in modo più energico, magari con dei colliri che chiamiamo rinforzati, quindi magari preparati dopo un esame che prende il nome di antibiogramma. Quindi si fa un prelievo del secreto congiuntivale, si analizza e si vede qual è il battere in causa, in forma di congiuntivite e si approccia a una terapia con un antibiotico specifico. Poi abbiamo il capitolo molto più importante, a mio modesto avviso, delle congiuntivite antivirali. E qui possiamo passare ore a discutere, perché andiamo dalla congiuntivite da adenovirus, più tipica di quelli momenti in cui il paziente ha un'infezione delle vie aeree superiori, le famose febbre adenofaringe. Quindi quando il paziente ha un po' di influenza, la congiuntivite da adenovirus è più probabile nella sua insorgenza. Poi abbiamo le congiuntivite da herpes virus, le conosciamo un po' tutte, quelle lì che di solito siamo abituati a vedere sul labbro del paziente. Abbiamo le congiuntivite da herpes zoster, abbiamo le congiuntivite da molusco contagioso. Sono tutte forme di congiuntivite virale che si caratterizzano soprattutto per una secrezione molto molto abbondante, fotofobia, vale a dire il paziente a disturbo alla luce, occhio rosso, ma soprattutto cattiva visione, perché nelle forme da adenovirus, ma anche nelle forme virali, il paziente ha proprio una percezione visiva nettamente ridotta. Il paziente nelle forme da adenovirus vede completamente annebbiato, è come se avesse un obiettivo sporco davanti al suo occhio e il paziente si avvede subito di questo. Il punto critico delle congiuntivite virale è la terapia fai da te, che negli anni 70-80 non pochi dispiaceri ha dato ai nostri pazienti, perché negli anni 70-80 si era molto spesso, soliti, prendere una terapia con colliri nostro occhio e aveva un problema, tac, una goccia di cortisonico. Il collirio cortisonico nelle forme virali è assolutamente controindicato, può portare a delle problematiche molto 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 importanti, addirittura con perforazione della cornea e arrivare al trapianto. Quindi prima di fare una terapia fai da te, pensiamoci su un attimino. E questo è il grosso capitolo delle congiuntivite virale che abbiamo detto spazia su vari capitoli. Abbiamo poi un altro capitolo, che è quello che è più attinente al periodo stagionale che stiamo vivendo, che è quello delle congiuntivite allergiche. Le congiuntivite allergiche le conosciamo tutti, noi siamo più soliti a pensare a congiuntivite allergiche come al pelo di gatto, al polline, alla lente a contatto, però non si esaurisce qui l'argomento. Abbiamo anche delle forme di allergia alle bacchette degli occhiali, che sono in titanio, tanto per dire possiamo avere delle problematiche di questo tipo. Pensiamo a tutti i prodotti che usano le donne per la cura della bellezza, quindi i vari cosmetici che usano, anche questi sono in grado di indurre delle forme di congiuntivite allergiche. Il paziente qui si manifesta proprio con una tipologia, arriva a noi con una sintomatologia molto caratteristica, lacrimazione, ma prurito. I bambini, soprattutto con le congiuntivite da polline, arrivano perché strofinano continuamente l'occhio. In questo caso la terapia è molto più semplice, cortisonico e antistaminico e il paziente ha una buona restituzia integro. Io sottolineerei, anche se mi permetti, le congiuntivite allergiche da lente a contatto, che spesso sono un po' sottovalutate dai nostri pazienti. Un po' più di attenzione non guasterebbe. Certamente, perché magari favorisce la comodità di lasciare l'occhiale, però poi insomma abbiamo capito che i danni... Ogni moneta ha sempre l'altra parte della medaglia, ha sempre un altro aspetto. Poi esistono tante, tantissime forme di congiuntivite, ad esempio da prodotti chimici, da agenti irritanti, da corpi estranei, da ultravioletto, anche chi va a sciare può avere una congiuntivite da ultravioletto se non protegge bene gli occhi. Abbiamo le congiuntivite della chiratite dei lavoratori, chi lavora ai saldatori. Ci sono tanti effetti, tanti agenti esterni che possono indurre una congiuntivite. Mi ho capito, peraltro, che le terapie e la cura è da valutare caso per caso, quindi è necessario nell'eventualità appunto di riscontrare i sintomi che abbiamo presentato, recarsi proprio presso un medico. Diciamo che la prima cosa è mai instillare cortisonico. Prima di instillare un colline a base di cortisone è bene essere sicuro del tipo di congiuntivite, perché una congiuntivite virale in terapia con cortisonico, col fai da te, può dare veramente delle grosse problematiche. Magari provare in prima battuta i primi due giorni con un pochino di antibiotico, dopodiché è sempre buona cosa consultare un medico specialista, anche perché la diagnosi di congiuntivite non è una diagnosi così banale, nelle sue varie forme chiaramente. I cosiddetti rimedi della nonna, molto spesso si sente dire un impacco ad esempio di camomilla, oppure alcuni, soprattutto in Toscana, di guardare il fondo della bottiglia dell'oro. Ma diciamo che hanno fatto più danni i rimedi della nonna. Pensa solo agli impacchi che si facevano con l'acqua calda. Dobbiamo sapere, i nostri spettatori devono sapere che il sacco congiuntivale è normalmente abitato da una flora batterica, cioè noi nel sacco congiuntivale abbiamo di default una popolazione di batteri. Questi batteri col caldo si riproducono in modo importante, quindi la cosa più sbagliata da fare è quella di chiudere l'occhio e metterci su un tampone con l'acqua calda. Questa terapia che si chiama impacco caldo umido va bene lì dove hai un calazio, quindi è un altro tipo di patologia, ma se hai una congiuntivite veramente è in grado di indurre delle problematiche notevoli. Per quanto riguarda guardare nella bottiglia piena d'olio, perché in Toscana mi sembra che usano questa terapia, non è tipica della congiuntivite, è più legata al problema del calazio e dell'orzaiolo, che è un altro tipo di patologia dell'occhio. Però ugualmente io non ho mai visto un calazio guarire né guardando all'interno di una bottiglia d'olio né andando al frantoio addirittura. Va bene, comunque in ogni caso ulteriore spiegazione, se c'è una medicina, una figura professionale poi che si occupa di questo tipo di patologie, un motivo ci sarà. Comunque niente impacchi. Benissimo. Professore io la ringrazio moltissimo per essere stato qua con noi. Anticipiamo già il tema del prossimo incontro, se non sbaglio, tra una quindicina di giorni. È un tema a me molto caro, è un tema che è stato molto sviluppato nella scuola da dove arrivo dall'Università di Pavia, che è il cheratocono, vale a dire una patologia della cornea. Benissimo. Allora, se non ho fatto male i conti, il prossimo appuntamento è il 15 marzo, parleremo di cheratocono e pertanto ci sarà la possibilità di indagare tutte le cause, i sintomi e le terapie, come sempre. Adesso tutte le notizie di Tg Prima Pagina, a seguire Target e come sempre l'appuntamento con Angoli domani. A domani.